E' l'Italia che cambia, è l'Italia che pedala, su sentieri differenti, ecologici e coerenti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Anche io la prima volta che ho provato a coinvolgermi all'interno del progetto di Sardex, ho un po' storto il naso, ma di che parliamo? Però è innegabile che strumenti come Liberex, come Sardex, come ce ne sono a decine, a centinaia in tutto il mondo, siano diventati fondamentali per garantire un po' di resilienza e resistenza al sistema economico. Molti pensano che un circuito come il nostro sia un circuito alternativo che deve abbattere il sistema. In realtà un circuito come il nostro è un circuito complementare, che dà una mano al sistema nei momenti di crisi. Liberex è il circuito di credito commerciale dell'Emilia Romagna. Nasce nel 2014 come replica dell'esperienza di Sardex, il primo circuito nato in Sardegna nel 2010, che oggi nella sola Sardegna coinvolge più di 4.000 iscritti. Lo scopo dei circuiti di credito commerciale è quello di fare in modo che tutte le piccole e medie imprese locali, gli artigiani, i liberi professionisti, riescano a mettere a reddito quello che noi definiamo potenziali in espresso delle imprese. Quello che facciamo sono fondamentalmente due cose. Da un lato creare una rete di piccole e medie imprese locali e dall'altro fare in modo che queste stesse imprese riescano a finanziarsi reciprocamente, a farsi del credito reciproco a tasso zero. Come avviene questo? Avviene attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che permette a tutti i partecipanti al circuito di scambiarsi beni e servizi e utilizzare come metodo di pagamento non l'euro, ma un'unità di conto interna al circuito che nel nostro caso definiamo Liberex. Liberex oggi coinvolge più di 300 imprese in tutta l'Emilia Romagna. In questo momento gli iscritti al circuito hanno già transato più di 3 milioni e mezzo di crediti, quindi più di 3 milioni e mezzo di euro di economia generata sul territorio. E il transato cresce in maniera esponenziale. Man mano che si cresce con i numeri degli iscritti e con la diffusione della rete, naturalmente il transato aumenta notevolmente. La composizione degli iscritti al circuito Liberex è decisamente varia. I settori merceologici coinvolti sono moltissimi, decine e decine. Un'ampia gamma di servizi che garantiscono da un lato la possibilità di vendere e di incontrare nuovi fornitori e nuovi clienti, ma soprattutto garantiscono la spendibilità all'interno del circuito per tutti gli iscritti. E questo per noi è un fattore fondamentale. I feedback che abbiamo degli iscritti sono positivi, naturalmente. Certo, ci vuole un po' di gradualità. All'inizio magari bisogna fare un piccolo salto culturale. Mi ricordo qualcuno che per mesi è entrato nel circuito, però non è entrato nella mentalità, quindi si rifiutava di spendere, di utilizzare il suo credito per innescare il meccanismo di fatto. Però una volta presa confidenza, una volta conosciuti gli altri iscritti, si incominciano a sviluppare le attività, si incomincia a transare e si incomincia a lavorare bene. Abbiamo diversi casi di collaborazioni positive che sono nate all'interno di Librex. Una su tutte, una che cito spesso, è quella di due imprese, una libera professionista, una libera professionista che si occupa di bandi europei. Si sono conosciuti all'interno del circuito, hanno creato una loro piccola rete, hanno partecipato insieme a un bando per un appalto europeo e l'hanno vinto. Quindi hanno di fatto anche avuto un beneficio in euro grazie all'utilizzo di uno strumento come Librex. Per me l'Italia che cambia è questa rete di attività, di esperienze, di innovazione da un lato e anche di recupero di conoscenze che da un lato si stavano perdendo, la possibilità di metterle in comunicazione, permettere una massima divulgazione di tutte queste esperienze che meritano di essere conosciute perché c'è davvero chi sta lavorando quotidianamente per provare a far diventare il cambiamento un atto concreto e chiunque si impegni da questo lato merita di vedere riconosciuto il proprio lavoro. Per me l'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi